Prima della pausa di agosto sono a calendario le visite guidate a Palazzo Lascaris nei sabati 9 giugno e 7 luglio. Nel corso della visita, che dura circa un'ora e mezza, vengono illustrati ruolo e funzioni istituzionali del Consiglio regionale e la storia del palazzo dal punto di vista storico-architettonico. Prenotazioni telefoniche per le visite dei cittadini, telefono 011 5757 509. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS